Buon pomeriggio ragazze, sepolti in casa, non dalle cose, intanto nel fatto che diluvia e l'unica cosa che mi blocca veramente in casa a me è quando tira l'acqua con i secchi, nonostante abbia il garage, praticamente scendo giù con l'ascensore, prendo la macchina e potrei andare anche se ultimamente è meglio di no, i posti troppo affollati, non è poi il coronavirus e le influenze che mi bloccano bensì è quando neanche il freddo e quando veramente fa tanta tanta pioggia, tanta acqua, che è una cosa che non so voi mi blocca, mi piace stare più in casa quando la tira giù con i secchi, dato che oggi pomeriggio comunque ho staccato presto dal lavoro ho detto ok, c'è ancora luce, sono sotto la finestra della mia piccola stanza e quindi ho detto facciamo sto video non ho messo grandi cose, grandi accessori a parte Rebecca, orecchini non brand, ho cambiato poi gli orecchini qua ho messo tutte perle, come potete vedere mi piaceva tantissimo, piano piano sto salendo e vabbè, gli orologi di Michael Kors e i miei solidi bracciali volevo fare appunto questo video perché è un video che mi avete richiesto in tantissime ci siamo arrivati per gradi, quindi ho voluto, in realtà l'ho partita a razzo con l'armadio, come creare l'armadio fashion più che altro perché sapete che sono appassionata di moda, leggo tantissimo, anche tante riviste, tanti comunque anche libri perché ci sono anche libri sulla moda ragazzi, non è che va in giro così, ma mi piace molto leggere al di là di acquistare un capo o l'altro, soprattutto trovare quelle cose che costano poco, veramente poco perché non è detto che se compri una cosa pochissimo poi non sia fatta bene adesso possiamo tra l'altro acquistare molti capi, anche i jeans con tutte queste offerte veramente ti porti a casa tante cose e hai speso poco alla fine, quindi sembra strano ma è vero bisogna un po' pressarci l'occhio, non farsi prendere troppo dall'acquisto compulsivo ma aspettare questa è una cosa che poi grazie ai black friday di adesso, ai sconti di adesso è possibile fare insomma non ci si fa prendere più dal compro quel capo buono, sì, però secondo me c'è anche la possibilità insomma di avere più cose a prezzi veramente stracciati comunque mi avete chiesto intanto come costruire l'armadio base, soprattutto tante ragazze giovani io vi do ai miei consigli, le mie idee, un po' come ho fatto io, un po' quello che penso non ho trovato o quantomeno forse non ho cercato bene dei video o dei blog in merito proprio all'armadio base proprio come lo intendo io, ho trovato sempre queste cavolo di liste su devi avere dieci così questi sono i dieci capi da avere, devi avere il blazer, devi avere la camicia bianca, devi avere il trench devi avere il piumino così, no, 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 non la vedo così ragazzi, quella lista che loro ti stilano sentite la pioggia e che danno come bibbia, io l'ho completamente stravolta nel senso che ho le mie idee, sì certe cose sono utili, certe le ho proprio scartate perché secondo me l'armadio base va personalizzato, va in base al proprio stile ma soprattutto in base alle proprie esigenze mettiamo che prendiamo una ragazza sportiva, no, vestirà in un certo modo se tu gli dici metti il blazer, la décolleté no, si troverà con dei capi che secondo me non gli collima col suo stile di vita quindi si troverà anche con cose inutili forse sì, dovrebbe un attimino anche inserire scarpe col tacco ma avere quelle dieci cose, secondo me stilizziamo un po', no, come si dice rendiamo troppo scialbo, troppo, poco personalizzato il discorso allora, quali sono i miei consigli per avere un armadio base? partiamo numero uno, sicuramente i colori io penso che adesso fate un urlo incredibile perché ogni volta costa stare i colori però per me, io ho letto tanto sull'armocromia anni fa mi ero affacciata su questo discorso l'ho studiato, ve lo ripropino perché comunque l'armocromia per me è importante fino a un certo punto lo ribadisco io non è che credo, ho rovolato tutto quello che è sicuramente ci sono delle linee guidi e ci sono anche delle cose molto vere quindi avvicinate questi colori benedetti al vostro viso ma soprattutto non è che dici ok mi sta bene il fucsia, il mio armadio base è il fucsia no, secondo me dovresti trovare e considerare cominciate a considerare i colori nude anche i colori tenui se vi piace proprio il nero e vi sta benissimo il nero ok, però secondo me bisogna considerare dei colori che poi possono essere mixati con altre cose un po' più particolari un po' più accese quindi io considererei anche i colori basi che possono essere un color cammello un grigio chiaro un grigio un po' più scuro bisogna vedere anche i colori come siamo la pelle i capelli gli occhi anche la fisicità quindi i colori anche in base a questo scegliete ovviamente ecco ribadisco provate i colori nude vedete quelli che vi stanno meglio anche un rosa cipria perché è abbinabile poi alla fine sono abbinabili con tantissimi altri colori il cammello può essere abbinato poi con un blu elettrico con altre tonalità di blu il cammello sta quasi bene con tutto il grigio perla è anche un altro colore che sta bene con rosa col blu elettrico con lilla con lavanda col viola con il blu elettrico stesso cioè ce ne sono veramente un'infinità di abbinamenti quindi per quello vi dico secondo me cominciate a considerare questo genere di colori per chi magari come me secondo me si affacciasse anche verso le crew il bianco sporco anche in inverno il color crema ce ne sono tantissime di varianti in modo tale da poter poi inserire altri colori che vi stanno sempre bene nel vostro armadio che siano bene con tutti questi che avete scelto quindi gonne, cappotti e che poi comunque se andate a scegliere dei maglioni ad esempio io sto indossando l'ho messo apposta questo maglione color celeste polvere che ritengo sia un colore che mi illumini il viso così come in rosa ecco perché vi dico avvicinatelo quando sono andata ad acquistare un cappotto mi è capitato di vedere questo cappotto da Zara Maglione altri 25 e non ci volevo credere ecco perché vi dico girate, guardate ogni tanto aprite una volta a settimana fanno tanti special price io quando sono andata a provarmi nel negozio ovvio mi sono portata dietro le cose con cui pensavo di abbinarle perché non è che posso comprare 200 celesti diversi perché poi metterli insieme a meno che non è un celeste polvere un po' più forte un po' più scuretto ci può stare perché questo è molto chiaro però avevo ricordavo che c'avevo delle tonalità di maglione così mi sono portata dietro quello un po' più chiaro e ho visto che ci è stata bene questo perché poi volendo inserire secondo e terzo colore avrei potuto farlo qui posso metterci perché ho un cappotto anche grigio perla quindi posso mixare i pezzi tra loro perché anche tra loro devono star bene quindi anche quando vado a prendere una sciarpa celeste perché so che ho il cappotto celeste voglio la sciarpa celeste cioè cercate di rendere un po' omogeneo non vi dico di puntare solo ad un colore magari a tre colori però non vi prendete una sciarpa grigio così a caso che poi ci cozza col cappotto grigio che avete cercate di rendere un po' la cosa uniforme non è che deve essere i propri denti ma che ci si spose abbastanza bene secondo consiglio secondo consiglio è sicuramente quello di stare attenti molto ai modelli quando vedo sempre quelle solite liste io adesso prendo il capo base il cappotto però il capo base è anche il maglione la camicia io preferisco la blusa ci sono delle cose che comunque servono in un armadio quello è ovvio ma non è che se non vi piace il trench e tizia X dice ok il trench è uno di 10 capi base voi lo prendete lo lasciate lo abbandonate lì no tutto va readattato magari non vi piace il trench fatto in un certo modo lo vedete vi piace un po' più particolare con dei bottoni particolari di un altro materiale allora eccolo che avete scelto in base al vostro stile in base alla vostra personalità no? il cappotto magari vi piace che ne so in neoprene oppure vi piace fatto in pelicetta l'importante però quando scegliete un capo spalla come il cappotto che sia durevole che sia in base al vostro fisico se vi stanno bene quelli con la cinta in vita prendete quelli con la cinta in vita che si stringono tipo a cappatoio per capirci se invece vi sta bene extra largo però secondo me non dovete scegli in base alle moto del momento perché poi il prossimo anno non li risfrutterete quindi vola sulle spalle tutte queste cose del momento lasciatele stare cercate per l'armadio base cercate sempre quelle cose che durino negli anni non solo e non solo il fatto che siano durevoli perché sono resistenti perché comunque lo costa e ci sono tante cose buone io intendo il fatto che come modello vi accompagni nei prossimi anni non passi mai di moda soprattutto vi sia veramente bene perché lo utilizzerete un po' più delle altre cose in sostanza apposta perché fate a base all'outfit quindi scegliete tutto in base al vostro fisico ad esempio io non amo molto i blazer o quantomeno non quelli oltre i fianchi perché essendo longilinea mi va a snellire troppo la figura magari sta meglio ad una donna curvi di per contro a me stanno belle le giacche modello Chanel un po' più corte quindi io prediligo quelle chi invece magari ama la camicia perché ha un seno più abbondante un fisico diverso prenderà delle camicie mentre io utilizzo di più le bluse le trovo forse più adattabili più sfruttabili su di me o probabilmente perché mi piacciono di più e quello è il mio stile quindi questo intendo anche nello scegliere i capi basi questo era il mio secondo consiglio l'altro consiglio è quello che questi capi devono piacervi veramente non fatevi influenzare ribadisco dalle mode del momento magari non vi dona quel colore non vi dona quel modello oppure lo avete visto indossa di un'amica ad una collega no non dovete farvi influenzare neanche da blogger o vlogger o quantomeno fashion influencer e quant'altro voi dovete essere fedeli al vostro fisico al vostro stile non vi fate influenzare ma soprattutto ribadisco vi devono piacere veramente perché gli acquisti fatti poi di testa che non colpiscono veramente al cuore non stanno veramente bene dopo finiscono nell'armadio diretti per fortuna c'è il reso online per fortuna c'è il reso a negozio per fortuna ci salviamo da acquisti sbagliati altro consiglio altra cosa altra domanda che mi avete chiesto è mano dove posso acquistare questi capi a mio avviso non è molto importante sicuramente nel negozio nel vostro negozio preferito avrete sicuramente un negozio di fiducia ma l'importante è che siano di un buon materiale non necessariamente costosi poi tra l'altro ribadisco che con questi black friday sconti e saldi si può avere accesso alla qualunque come dice la mia collega e rifiniti bene ragazzi rifiniti cuciti bene qualora incontrate questa è una cosa che inserisco adesso che mi è venuta in mente al momento proprio perché è capitata a me qualora incontrate una giacca di questo tipo o capotto e ovviamente non avete pagato tanto perché io non mi azzarderei anche se l'ho fatto e notate che magari ci sono bottoni o cose che non vi entusiasmano o passano gli anni e voi comunque volete rimodernare una giacca cosa che andremo a fare poi nel prossimo video che verrete con me in merceria mi accompagnate come al solito nelle dirette che vi lascio qui nell'info box il mio contatto instagram per potermi seguire nelle mie dirette che di solito ci sono il martedì a volte il mercoledì pomeriggio sul tardi ma anche il venerdì dipende comunque della segnala andate a cambiare i bottoni o qualche altro dettaglio o far fare un ricamo o qualcosa la maggior parte delle volte ritengo che cambiare dei bottoni ad una giacca ad un cappotto lo rinnovi totalmente quindi questa è una cosa che volevo inserire perché appunto ci stava con le rifiniture con i materiali anche i bottoni io guarderei anche i bottoni di una giacca se però il gioco vale la candela perché l'ho pagata 20 euro ma ritengo che i bottoni odio il nero io andrei a cambiare i bottoni io di questa giacca cambierò i bottoni magari metto dei bottoni particolari dei bottoni dorati argento a seconda con che cosa valuterò prima con che cosa più l'abbino oppure tono su tono quindi valutate anche questo discorso se il prezzo e qualità e il gioco vale la candela magari mi piace quel dettaglio su quella giacca si può modificare sì fatelo anche tranquillamente a casa vostra un'altra domanda era quando li acquisti Emanuela quando acquistare questi capi ragazze si risponde da sola perché ve l'ho detto finora ve l'ho detto sempre se non ci sono in giro in quel momento Black Friday sconti saldi prendetelo online e lo provate a casa è ovvio così in modo tale che potete fare il reso anche a negozio adesso si fa il reso e non avete sprecato i vostri soldi però io direi se non c'è urgenza di costruire questo armadio base aspettate i saldi aspettate i sconti e soprattutto se avete puntato qualcosa di veramente costoso io andrei ad aspettare perché comunque sia con tutte queste promozioni c'è questa possibilità perché non farlo l'ultimo consiglio a questo punto il mio ultimo consiglio che è quello che ho fatto io una volta che tu ritieni di aver acquistato un numero sufficiente di capi base capotti scarpe ovviamente quello che ti necessita o sei andata comunque ad assortire il tuo armadio perché o a fare un cambio insomma i capi hanno secondo me un ciclo di vita a un certo punto è il caso che il cappottino che ti sei accompagnato che ti avrà accompagnato per dieci anni è il caso di se rovinato veramente visibilmente direi di cambiarlo di sostituirlo questa è una cosa importante e fondamentale per avere sempre dei look perfetti degli outfit curati mai avere dei capi rovinati e logorati non dà un bel effetto non è una bella vista sinceramente comunque la volta che hai ritenuto di aver costruito il tuo armadio base io direi che è il momento di cominciare a prendersi una pausa dallo shopping secondo me due tre mesi per poterti ovviamente utilizzare cominciare a sfruttare a goderti questi capi e mixarli tra di loro in modo tale che comincerai anche a renderti conto di quello che manca di quello che ti necessita di quello proprio che va inserito nell'armadio e quindi a questo punto considerare cambio di rotta considerare insomma di inserire dei capi un po' particolari come accessori inserire dagli accessori borse qualche gioiello ma soprattutto borse e scarpe un po' più particolari iniziere proprio dalle borse in modo tale da inserire dei pezzi un po' più fashion chiamiamoli così infatti nell'altro video vi avevo mostrato la mia borsa questa di Michael Kors che presi ai saldi a un bel prezzo perché a prezzo piano sinceramente non l'avrei acquistata ho aspettato ho fatto bene che ha questi tre colori io come colore base soprattutto in primavera utilizzo molto il verde oliva e acquistai sempre in saldo ad un prezzo veramente ragazzi in eco camoscio ve lo devo far vedere sono molto simili come colore forse è leggermente leggermente il più scuro quello della borsa ma sono materiali diversi quindi ritengo che ci sia molto bene l'ho presi da Zara ad un forte sconto ad un forte era l'ultimo l'ultimo XS quindi la ferrei al volo non mi ricordo neanche quanto l'ho pagata molto poco non vedo la di sfruttarla in primavera amo molto il verde oliva e ritengo che ci siano molto bene quindi mi sono resa conto perché mi ricordavo di averlo ben impresso le cose insomma che acquisto ho detto ok li prendo e li metterò sicuramente insieme ecco perché si parte sempre da avere un buon armadio base con cose neutre con delle cose lineari e basiche in modo tale che potete fare anche degli acquisti un po' più azzardati perché sarà molto facile poi mixarli insieme e far risultare un outfit molto carino anche perché io non mixo mai troppe fantasie o troppe cose particolari insieme perché verrebbe veramente una cozzaglia come dico io non mi piace farebbe solo confusione mi piace comunque uno o due dettagli al massimo particolari e tutto il resto abbastanza lineare ragazze per questo video era tutto grazie per avermi seguito fin qui grazie alle nuove iscritte a tutti i commenti che lasciate a tutti i messaggi che mi lasciate anzi me ne aspetto uno qui sotto se ho risposto a tutte le vostre domande oppure scrivetemi magari mandatemi su direct qualche messaggino in modo tale che posso rispondervi anche subito insomma in maniera molto diretta e molto veloce quindi vi aspetto anche su instagram vi rinnovo il discorso del link nell'info box anche per il mio account instagram vi aspetto insomma un like come al solito di sopportazione o quantomeno sapere se vi ho tenuto compagnia oggi vi mando un bacio e ci si vede al prossimo video ciao